E quel signore sotto sulla destra è Nigel Anderson, che è il fotografo, e insieme a Richard Hamilton e ad altri facevano parte di questo gruppo che si chiamava Independent Group, che sono i veri creatori della prima cultura pop. All'Architecture Association dove si vince un'insegna è iscritta anche la giovane Denise Scott Brown, che è una dei tre autori del libro, che di lì a poco si trasferirà negli Stati Uniti. Questa foto è emblematica perché loro ci tengono a farsi poter fare in mezzo alla strada, proprio fisicamente al centro di una strada con delle sedi. E per dire questa necessità di tornare in strada, di tornare nel mondo, poi insomma siamo negli anni in fondo del neorealismo, quando il cinema italiano seduce il mondo per il fatto che essendo distrutti gli studi di cinecittali i registi vanno in giro per la strada con la camera da presa. E' questo che seduce il mondo, questo contatto diretto, questa scoperta del popolo, questo cambiamento epocale.